salve a tutti amici è ormai presente da più di qualche giorno anche nelle sale italiane il film limonov di kirill serevrennikov spero di aver pronunciato correttamente il nome del regista e ho pensato anch'io di esporre il mio giudizio su quest'opera innanzitutto ci tengo a fare due premesse la prima proprio per onestà ritengo che serevrennikov sia un regista scarso questa è la mia opinione personale credo che si sia fatto conoscere soprattutto per alcuni episodi della sua vita privata anziché tramite l'effettiva qualità dei suoi lavori poi volevo soffermarmi sulle modalità attraverso cui il pubblico italiano ha conosciuto eduarda limonov scrittore russo contemporaneo che è il soggetto di questo film va detto che in italia la maggioranza del pubblico non ha conosciuto limonov direttamente tramite la lettura delle sue opere ma attraverso due canali potremmo dire il primo è la biografia chiamiamola così il libro che gli ha dedicato carrer limonov non ha espresso pareri positivi su quest'opera dello scrittore francese ha dichiarato di averne letto una parte e poi di aver abbandonato l'approfondimento perché evidentemente non era un testo che meritava la sua attenzione non riteneva che quest'opera andasse presa in considerazione per cercare di capire la sua vita il suo pensiero tuttavia va anche detto che limonov si è mostrato almeno una certa misura riconoscenti a carrer perché gli ha dato visibilità il libro di carrer nel momento in cui è apparso potremmo dire sul mercato editoriale ha raggiunto subito dei livelli di vendite superiori a quelli che erano stati quelli delle opere di limonov sino ad allora pubblicate e proprio grazie a questa biografia diversi libri di limonov sono stati tradotti in lingue straniere hanno conosciuto una circolazione che probabilmente senza questo testo non avrebbero avuto va detto il film dovrebbe essere incentrato proprio su il libro di carrer il secondo canale tramite cui una parte degli italiani ha conosciuto limonov è la fascinazione per la sua figura di attivista politico di ideologo limonov è stato sicuramente un personaggio controverso con una personalità contraddittoria istrionica in alcune interviste si presentava esplicitamente come fascista fascistoide in italia si è presentato ad alcune conferenze con un anello con il volto di mussolini in altre interviste si presentava come un comunista stalinista in altre ancora si presentava come ambo le cose insieme questo aspetto dell'estremismo politico in questo film è molto ovattato compare esclusivamente nell'ultima parte del film e anche in maniera abbastanza veloce in un passaggio breve chi magari si aspettava un focus su questo resterà deluso veniamo all'impostazione generale del film il riferimento dovrebbe essere il libro di carrer ci sono anche delle citazioni da alcune opere di limonov in particolare diario di un fallito tuttavia sono tutte citazioni che in realtà sono già presenti nel libro di carrer ragion per cui non c'è stato a mio giudizio un lavoro sulle fonti primarie non penso sia un fatto positivo per molti punti di vista ritengo che la trama abbia un taglio veramente wikipediano perché sintetizza molto il lavoro di carreri in alcuni passaggi e l'impressione è quella di avere davanti una breve voce biografica tra le tante che si possono trovare sulla rete me lo sarei aspettato da un regista non russo da un regista statunitense inglese o italiano magari non da un regista connazionale di limonov la storia in alcuni passaggi viene ridotta appiattita quasi a un livello da fiction della rai sin da le prime scene si può insomma partire con un certo grado di delusione il film è diviso in capitoli con la scelta di proiettare una serie di parole rosse in maniera quasi bambinesca che dovrebbero essere il titolo di questi appunto capitoli della storia è una scelta quasi incomprensibile e francamente poco fa ho fatto un paragone con le fiction storiche della rai come prodotti di scarsa qualità tuttavia credo che nessun regista rai avrebbe adottato una scelta del genere che veramente non dice nulla è incomprensibile venendo a come è trattata la vita di limonov dobbiamo ribadire che non è tanto un film su limonov figura storica ma su limonov personaggio di carrera la prima parte della sua vita è in parte trascurata un aspetto che carrera aveva sottolineato molto era il rapporto con il padre che qui è ridotto a un'unica scena e quindi è anche svilitto risulta poco legato a quello che è lo sviluppo della trama nel libro di carrera invece il contrasto con la figura del padre crea in limonov una reazione che lo spinge a diventare ciò che è almeno nell'analisi proposta dallo scrittore francese per cui doveva avere un certo peso nella pellicola se si voleva riproporre propriamente la riflessione di carrera in realtà questo viene fatto fino a un certo punto credo che parlando nello specifico di alcune scene non andrò ad anticipare niente a nessuno penso che tutti sapranno pressa poco come si svolgerà ecco la narrazione anche perché la vita di limonov insomma la si può trovare riassunta sulla rete facendo una rapida ricerca per cui diciamo che non ci dovrebbero essere particolari colpi di scena e il regista non ha fatto praticamente nulla perché ce ne siano la colonna sonora è pesante si sovrappone a quello che è lo sviluppo della storia c'è un protagonismo di queste canzoni che fanno da tappa buchi nei momenti in cui cala la tensione al mio giudizio evidentemente il regista è riuscito ad accapararsi la possibilità di utilizzare anche dei classici per provare ad accattivarsi il pubblico però non mi sembra una scelta che denoti una grande capacità di gestire il mezzo nella vita di limonov le donne hanno avuto un grande peso qui credo per una questione di economia del tempo cioè per fare un lavoro di sintesi la donna è solo una e quindi emerge grandiosa sulla vicenda presentata con un valore probabilmente spropositato rispetto a quello che realmente dovrebbe essere nella vita di limonov ci sono state tante donne con cui ha avuto relazioni differenti questo non è sicuramente un tratto di realismo la politica viene presentata in maniera piuttosto semplificata e marginale se qualcuno avesse insomma questa curiosità glielo posso dire subito dugin in questo film non c'è alcune vicende chiamiamole anche problematiche forse difficili da affrontare qui sono ignorate non c'è la questione di limonov che combatte dalla parte dei serbi in bosnia non c'è limonov che cerca di architettare un colpo di stato e viene rinchiuso per questo non ci sono i contrasti tra lui e lo stato russo per l'ideologia che proponeva non ci sono le vicende giudiziarie del partito nazional bolcevico ed è anche abbastanza difficile per uno spettatore capire il motivo preciso per cui a un certo punto limonov va in carcere alla fine che cosa ci rimane ci rimane una lunga corsa verso l'ultima parte della vita dello scrittore che viene presentata come un powerpoint di immagini brevi filmati e date attraverso cui limonov corre con un effetto un po da fumetto un po da cartone animato che però risulta bambinesco non ci trasmette nulla se non un desiderio di riuscire a saltare velocemente dei passaggi come sia terminata la vita di limonov penso che tutti lo sappiano basta prendere i giornali per sapere come effettivamente è venuto a mancare forse il regista non l'ha ritenuta una morte particolarmente adatta per essere presentata al cinema forse non abbastanza affascinante per carità raccontare la biografia di un personaggio con un film non è assolutamente facile si devono fare delle scelte e può anche succedere che si arrivi ad inventare un finale non è detto che sia una mossa sbagliata mi è venuto in mente per esempio l'ultimo imperatore cui l'ultimo imperatore della cina ha concluso la sua vita come cittadino comune della repubblica popolare cinese quando è uscito il film la sua ultima moglie si è lamentata perché ha ritenuto che le parti più importanti della vita di suo marito non siano state raccontate nel film le parti più interessanti quelle che del resto lei aveva conosciuto il regista ha pensato a un finale in cui quest'ultimo frangente dell'esistenza di pui viene presentato in maniera anche sognante con lui che entra nella città proibita la scatola con il grillo e insomma quella visione anche un po onirica che tutti coloro che hanno visto il film hanno presente di lui che si dissolve non è la realtà storica pui non pagava un biglietto per entrare alla città proibita anzi è stato chiamato dai curatori di mostre per chiarire degli aspetti relativi a determinati oggetti che sono esposti alla città proibita ha collaborato alla stesura di cataloghi ha avuto un'amicizia personale con mao tutto questo nel film non c'è però comunque il finale scelto dal regista è interessante trasmette delle emozioni che cosa ha fatto il regista invece di limonov ha chiuso con una battuta d'arresto e con una serie di riflessioni su quello che è il ruolo chiamiamolo anche di precursore di limonov rispetto ad alcuni eventi di storia contemporanea o meglio del nostro presente sono congetture che ciascuno di noi poteva fare anche per conto suo non è che sia una grande rielaborazione una grande reinterpretazione del personaggio c'è qualcosa che in carrera non c'era ma è poca cosa è un paio di righe tratte da wikipedia e scritte anche abbastanza male è la presentazione del partito nazional bolshevico come un gruppo di skinhead nazionalisti si rimane perplessi che cosa mette di suo il regista nella storia di limonov alcuni episodi in cui la visione della realtà del protagonista altera le vicende e appunto si distacca da ciò che è la realtà materiale delle fantasie va bene questo mi ha ricordato un po' l'ultimo film di joker quello in cui il protagonista è interpretato da joaquin fenix le scelte del regista e l'abilità di questo attore riescono a creare delle situazioni in cui veramente si entra nella mente di un folle si vedono delle cose che non corrispondono alla realtà e si comprende anche il dramma di quest'uomo in limonov invece la scelta di alterare la realtà dovrebbe servire per mostrare la fantasia di un romanziere però non è chiaro che ruolo dovrebbero avere questi film mentali che limonov si proietta non non si capisce materialmente che cosa vogliono dirci e del resto qui limonov è presentato come personaggio non c'è la sua crescita come scrittore non va incontro a delle vere sconfitte a dei veri fallimenti non riparte da zero non migliora non cresce rimane sempre statico sì ci sono degli editori che lo rifiutano che gli fanno delle critiche ma fondamentalmente ciò che si capisce è che ha sempre ragione lui e che non ha bisogno di cambiare sotto nessun punto di vista non c'è quasi nulla della sua opera di scrittore di artista di poeta molto molto poco e poi ci sono alcune scelte che risultano caricaturali se non tragicomiche limonov durante tutta la storia ha dei momenti di rabbia incontrollata in cui urla ma anche questi sembrano un po dei tappabuchi soprattutto l'ultimo sclero alla fine della pellicola è immotivato c'è una scena in cui limonov sale sulla cima di un palazzo a new york e si mette ad urlare dall'altra parte della strada gli viene detto di stare zitto che cos'è una citazione dal principe cercamoglie l'effetto è ridicolo io mi sento di dire che coloro che hanno amato i libri di limonov e li amano coloro che sono attratti dalla sua figura possono anche vedersi questo film penso però che alla fine lo spettatore attento e anche preparato si renderà conto che se c'è qualcosa di interessante in questo film è limonov stesso i pregi del film sono dovuti alla figura di limonov non alle doti del regista questo film è una vittoria di limonov ostuma lui probabilmente non so nemmeno se sarebbe andato a vederlo forse se ne sarebbe fregato sicuramente avrebbe detto è tutta pubblicità per i miei libri chissà che io guadagni di più chissà che i miei libri siano più tradotti più pubblicati però sì l'unico che ci guadagna qualcosa è lui è lui che evidentemente è stato giudicato così straordinario da essere degno anche di un film e magari in futuro ne faranno anche degli altri della della qualità del regista c'è poco da dire meglio stendere un velo pietoso è un'opera che rischia anche di essere dimenticata abbastanza in fretta questa è un'altra possibilità o porterà ulteriore notorietà allo scrittore oppure verrà spazzata via velocemente questo è quello che io mi sentivo di dire e vi ringrazio come sempre per l'attenzione